Bene ragazzi, eccoci a un nuovo episodio di Tales of Arise. Allora, erano rimasti che dobbiamo andare a salvare Shion, ma nel frattempo vediamo le missioni da fare. Anche perché non posso viaggiare, mi sembra. No, non posso viaggiare, quindi vediamo un po' che cosa vuole questo tizio. Vedi, vedi che Kisara si è svegliata. Toccaci il pesce. Per le nostre acque. Cioè lì ormai il padrone ha in tutti i posti dove va, nostre. Ok. Vai Kisara. Solo Kisara può prendere i pesci. Diviedo di pesca. Allora, andiamo. Superpredatore di queste acque, è stata a vedere. Bellissimo. Il superpredatore. Allora, qua non ci fa vedere dove andare. Immagino che dovremmo proseguire di qua. Allora, vediamo un po'. Un punto pesca, un punto pesca. Che cos'è quella cosa qua? Mercante. Quindi in questa zona ci dovrebbe stare i... Ah, non li devo sconfiggere quattro a prescindere. Oh, c'è un gufo. Un gufo nella zona. Penso che siano questi che dobbiamo distruggere. Ah, problema. Oh, che l'ho fatto? Dai, facciamoci un... Dai che ci riusciamo a farlo. Oh, grazie a Dio. Deve fare un boss? Mamma mia, che ci vuole. Sono l'acqua e dovrei sbloccare un attacco di... ...di coso. Ma vabbè, dai, fammelo fare. Aspetta che è riuscita la scenetta. Ah, quindi fa caldo. E ha fuso. Il gufetto se la fida. Il gufetto è difficile per guardare un attacco di un attacco. Ma vabbè, ci vuoi... ...ce necessità di tempo come questi... ...è un razzesco spingale... ...d'ora ci si chiede... ...d'ora ci si chiede... ...ma te cosa, Alfin? ...e tutto il tuo lavoro... ...e tu sembra che non stai spettando un sangue... ...è... ...d'ora che quando ti ti vivi una vita devolta di dolore... ...d'ora che io ho... ...d'ora stai piaciata... ...d'ora... ...d'ora... ...d'ora, non ti chiede... ...d'ora ci si chiede... ...d'ora ci si prendi quando ti passi... ... Ok, ok. Mamma? Non l'avevamo capito. Voi come so come vi permettete? Allora, troviamo un punto dove esce l'acqua, l'ebollicina, eccolo qua. Ah, non ho visto... Aspè. Quindi qua che mi danno? Andiamo, andiamo. Vediamo che animalaccio abbiamo. Dobbiamo dimostrare che siamo noi migliori. Comunque, questo è un nuovo punto di pesca. Come avete visto, risulta che abbiamo preso già due pesci. Alcuni pesci sono comuni, li potete trovare un po' ovunque. Poi ci sono alcuni, magari, specifici di colazione. Dai. Vieni da mamma. Anzi, da Kisara. Quindi, abbiamo preso uno nuovo. Mi sembra, sì. No, mi serve il piragno. Piragno. Piragno, quindi deve essere tondo. Eh, qua sono tutti lunghi. Forse quello più lungo là, forse ce la faccio a prenderlo. No, vedete, se avete intenzione di prendere un tipo di pesce e allontanare gli altri, dovete fare come sto facendo io. Come si allontanano un po'? Oh, me l'avvicino. Ok, boccato. Pongo, devo prendere un piragno, quindi il prossimo devo prendere qualcosa di tondo. A cambio, amo. Questa telecamera che cambia in quadrature è orribile. Luccio verde. Luccio verde. Ah beh, luccio verde, era la lista. Luccio verde. Ah, ok, adesso devo prendere un piragno. Allora, vediamo se a cambio esca ci sta il piragno. Piragno, piragno. Piragno. Indemoniato. No. Allora, vabbè, niente, continuo con quella da esca. Da due, vediamo. Piragna, eccolo. Ho visto. Vai. Vieni da me, piragna. Piragna è facile beccarlo sotto andi. Ma è così, abbiamo completato pure questa parte di laghetto. Ormai sono diventata un'esperta di pesca. Solo quelli con due tacchi di vita non riesco ancora a farli. Ci vorrà sicuramente una canna diversa, migliore. Piragna ha preso. E abbiamo completato. Perfetto. I boschi di... Altubrillo. Adesso continuiamo con la storia. Ehi, fai sono andato. E come faccio ad arrivare là? Ci vado? Mi da cado? L'ho visto che sta là. Buono. Bravo, vedete? Oh. No! Lo sapevo. Andate a schiandarmi. Eh sì, aspetta. Sti bastardi dovevano ammettere il gufo. Culonia. Ma forse se andavo di là, me lo dava subito? No, se no, devi fare sto tratto, per forza. Vai, chi sarà? Non mi cadere. Ok. Buono così? Beh, non lo dai. Guardate se non me lo dà. Eh, uuuuh. Ma che non me lo dà? Ma un culo, deve arrivare proprio a due centimetri da lui. No, la fascia destra. Vai, 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 vai. Oh, ha sbloccato un'abilità. Di chi? Sì, non puoi. Che c'entra lì? Incremento BA1. Ah, mi sa che mancavano cose, ecco. Che c'è? C'è la creazione magica. Incremento danni. Ma, vedete di che? Non ti dà? Penetrazione P49 è buona. Vediamo gli altri che devo fare. Resistenza. Ah, mille e tre. Eh, ma questo ci vuole. Va bene. Ok. Vediamo che ci do. Allora. Sì, è un bestiame. Oh. Aspetta, non ho capito niente. Ascolta spiegazioni. Di che? Ma vabbè. Perché si è lamentato uno? Non mica hai visto. Ah, uè, 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 uè. Ci abbiamo la pecora. Ok. Maiale. Cavallo. Pecora. Ok. Qua del polo si trova. Forza arma. Allora. Ce n'abbiamo solo uno. Vento. Dovrei averlo di fuoco. Questi sono di acqua. Vediamo qualcuno che me lo dà. Di fuoco, ecco. Va bene, che faccio prima a lui. Vediamo. Terra. Vento. Niente. Ok. Allora, glielo diamo prima a Dalfen. Che almeno... C'è qualcosa che può usare... Contro il cu... Contro l'acqua. Ok. Andiamo a mangiare. Ok, amplifichiamo... Sembra... La roba che otteniamo. Ok. Guaranteed. Oh. Ah... No, Rinwell mi sta sull'aria scatola. Rigo, dimmi. Ma quando? Ma a te te l'ha sfruttato. Ehm... Ma... Immagino che se torni nel tuo paese da Lord Perdente non penso che fai una bella figura. Non... Ma... 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 Ma guarda, una storia triste, ma dove? E' un gruppo di complessati, non di storia triste, non ci sta niente di storia triste. Ponto, non vedo male. Ma guarda, non vedo male, non vedo male, non vedo male. E' un posto per riposare. Ah, quindi è stato invernato. Ma guarda, non vedo male. 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 Sì, è necessario. So he finally... I really hope Xion's okay. I get why you're concerned, but if you... Oh, I'm going to eat it. Non so, non so. Io posso bere l'acqua quando... Tu dice questo, ma tu sai cosa succederà se continui cominciando l'acqua... È nulla di vostra business cosa mangia o quanto mangia! Arguando su la consumazione di un prodotto frizzato di prodotto... Ah, to... Naive potrebbe essere più accurate. Oh, oh, oh. E lei? Fanno cambiare il tuo vestito. Dice. Oh, non vuole fare... ...di sperare. Non so perché. Oh, abbiamo sbloccato un'abilità di Rinuel cucinando il gelato. Ricordatevi di cucinare il gelato. E' buono. Fa un attacco d'acqua. ... 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 Sì, hai detto io solo che è un cretino comunque? Ma io non so se ho sbloccato io qualcosa tra le loro superiette mangiando il gelato. Ok, qui ne abbiamo un down ground. Buon acqua da tutte le parti. Ah, non è manco tanto lunga. Alla prossima. 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 C'è tipo qualcosa per salvare. Trasportarmi. Allora. L'ho acquistato tutto. Gelatino alla pesca ne prendo. Questa. Forza. Vediamo. Uno. Ah, non posso farla tutti quanti? Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ok. 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 Vediamo chi dobbiamo affrontare. Oh, abbiamo visita. Ma questo è di fuoco? Dove devo usare acqua? Ma vabbè, mi ha fregato. Quindi ci farà cadere pure fuori, no? Ho capito. Questa terra è andata. È vento, devo usare terra. Ma fregato. Ma vabbè, a lui non conviene che la metto terra. Se ce l'aveva terra. Ok, lui c'ha terra. Terra. A lui non conviene. Io posso usare le arti, invece. Allora. Arti terra, terra. Posto. Mestrutti attacchi di terra. Oh. L'avevo parato. Vediamo che fa. Ok, si ruota. Ci stordisce. Avvenena pure. Cammino. Il becca. Che fa questo? Eh, che so. Una girafe. Questa è stata un po' di sé. Ok, ci stigiamo. Oh. Ok. Ok. Ok, forse. Grazie a tutti Eh ma dovrebbe fare eh 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 No vabbè ma io potevo fare i cuci Uno bambino Sì 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 Ah, non ci stava niente. Ah, infatti. Ah, non ci stava niente. 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 Infatti... Che devo fare? Devo cadere? Facino cascata... Ma io ce l'ho già stata qua? Ah, vicino cascata ti butti di nuovo di là, ho capito. Stiamo avvicinando al palazzo? Terra del nulla. No. No? Quindi facciamo eruzione? Ah, grazie a Dio. No, maggiore. No, maggiore. Il tipo stia attendo che te lo può fare? No, c'è un punto di pesca. Quindi non è una vera e propria città. Posso spostare? Nooo. Qui possiamo? Cuciniamo. E cuciniamo. No, ripristino PC. Ok. 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 Hai mai pensato che la magia solo attraversa l'attenzione che ha fatto? Le braccia possono essere così lethali in le right hands. Il mio migliore è che il braccia può essere uscita da qualcuno. Magia... Quindi, hai il dono. Quando qualcosa non è facile ottenere, è difficile compreendere. La persone sono scari, quindi il problema non è magia. Si può essere così facilmente... Si. poodle let me know if you sense anything another day another go maybe something's going on there's something in the water now where might those fish be where should I cast my line ho ottenuto una nuova esca dobbiamo usarla allora dove ci sta l'acqua che galleggio pollicina questo sembra abbastanza facile come animale vediamo se ce l'avevo ok ce l'avevo there we go oh 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 Ah, questo penso che sia nuovo, vediamo se me lo do. Sì. Oh, me ne mancano due. Tutto bene con la storia. Ok, facciamo questo. All right. Oh, me ne mancano due. Oh, me ne mancano due. Ok, mi manca la truta. Ma sinceramente non lo so se la prendo la truta. Bene ragazzi, concludo qui il video. Penso di far salire prima il gruppo a livello 35, prima di affrontare il Lord d'Acqua. Se il video vi è piaciuto mettete un like. Se volete continuare a seguire la storia, iscrivetevi al canale. Alla prossima. Ciao, ciao.